bene salve buonasera a tutti allora quello che sarebbe dovuto essere una seduta di movimenti non rilevanti con i mercati a mezzo servizio a causa del veterans day negli stati uniti si chiude con un bilancio del tutto negativo in europa andiamo a vedere che cosa è successo quindi dax chiude a meno 1,79 per cento ibex a meno 0,73 il cac a meno 0,93 il fuzzi londra a meno 0,73 piazza affari che chiude a meno 1,06 per cento quindi questa è la situazione invece per quanto riguarda le news che sono state rilasciate oggi non ci sono state news rilevanti quindi andiamo a vedere domani che cosa ci offre la seconda giornata martedì 13 novembre dove alle 10 e 30 abbiamo l'indice dei salari medi inclusi di settembre poi dalla gran bretagna sempre dalla gran bretagna abbiamo le variazioni delle richieste dei sussidi di soccopazione di ottobre alle ore 10 e 30 sempre dalla gran bretagna il tasso di soccopazione di settembre e poi alle ore 11 l'indice zero sul sentiment dell'economia tedesca bene andiamo a vedere invece come come è partita la settimana la settimana è partita col botto meno per chi ha seguito anche le indicazioni all'interno della chat telegram possiamo andare ad evidenziare che la situazione è stata molto una settimana appunto che inizia molto molto bene soprattutto perché andiamo a vedere subito quello che è successo per quanto riguarda i principali le principali movimentazioni per quanto riguarda appunto le forze fra le singole valute iniziamo dal un attimo solo che si attiva il grafico in ottica giornaliera per quanto riguarda il best and worst vediamo ancora una sterlina in grossa difficoltà a poco e ore dalla chiusura della prima sessione che perde il meno 4,32 per cento eseguita da un euro meno 3,45 dollaro australiano meno 0,82 per cento per quanto riguarda invece lo yen abbiamo una situazione vedete più 2,53 per cento seguita da un dollaro americano 2,31 e un new zealand dollaro ad 1,82 per cento mentre invece per quanto riguarda il net change rimane sempre euro dollaro negativo usd franco quindi abbiamo una spinta positiva usd cad positivo euro cad euro franco tutti e due abbiamo una confluenza negativa mentre invece eccola qua il dax che molto probabilmente aspetto una correzione per poter entrare anche domani con una movimentazione sell e poi oggi abbiamo operato anche sulla sull'azionario in particolare abbiamo chiuso un'operazione sell su invidia più 35 punti per quanto riguarda invece le ema vedete abbiamo il mercato chiude in rosso anche per quanto riguarda le medie mobili che praticamente abbiamo vedete tutte confluenze euro dollaro negativo dollaro yen ancora positivo stellina dollaro negativo ed usd cad positivo e poi tutte le coppie di cui abbiamo euro yen euro di euro cad euro franco negative e poi abbiamo il comparto stellina dollaro nella nuova zelanda negativa oro ancora negativo us crude dove appunto siamo ancora sell a mercato negativo e poi abbiamo i dax cac uk nasdaq e down jones tutte movimentazioni negativi bene questa è la situazione per quanto riguarda appunto il e poi per quanto riguarda l'azionario vedete apple che praticamente mette giù essendo la una che ha diciamo una otto una la percentuale più alta per quanto riguarda all'interno del down jones praticamente mette sotto stretta sotto stretta a pressione down jones che chiude con un passivo un forte passivo negativo in questo momento diciamo abbiamo una chiusura di oltre 2 per cento meno 2 per cento poi abbiamo adobe amazon facebook general electric sempre negativo e poi netflix e in video dove praticamente in questo momento abbiamo anche su amd stiamo a mercato sell bene questa è la situazione andiamo subito invece a vedere come si sono comportati soprattutto il comparto degli indici partendo appunto dal dax come vi dicevo prima abbiamo una situazione eccola qua vedete c'è stato questo forte movimento al ribasso che diciamo dalle indicazioni che già ho dato e vi ho dato stamattina c'era questa movimentazione ribassista però molto probabilmente sto aspettando in ottica h1 possiamo andare già a cancellare questo pattern armonico che oramai diciamo è stato validato e quindi abbiamo raggiunto anche i target ed molto probabilmente primo la prossima correzione vedete abbiamo diversi tre massimi decrescenti quindi sul 50 61 8 ovvero 11.484 11.485 potrebbe dare un ottimo spunto al rialzo quindi sono altri 150 punti per quanto riguarda invece un il abbiamo detto i down jones siamo entrati diverse volte al mercato oggi sul down jones quindi abbiamo diverse operazioni quindi al momento vedete si sta appoggiando sul 25 mila e 6 qua abbiamo preso dopo l'indicazione di stamattina per quanto riguarda anche all'interno anche del canale chat telegram è la prima analisi che ho fatto stamattina proprio aspettavo una correzione la correzione c'è stata vedete al 50 61 8 c'è stata questa discesa dove abbiamo preso i primi approfitto siamo andati praticamente abbiamo c'era la possibilità di diverse movimentazioni bearish quindi qui e anche qua ovviamente adesso vedete si è appoggiando sul 25 mila e 600 una zona che è stata testata sia qui su questa zona anche su questa zona quindi da qua ci potrebbe stare un rimbalzo e poi vediamo domani sul da farsi anche per quanto riguarda da un giorno il nasdaq west tech 100 in questo momento vedete abbiamo anche qua abbiamo preso subito dopo una correzione c'è stata questa forte movimentazione al ribasso in questo momento il prezzo si è appoggiato sul supporto s1 farsa movimento da qua potrebbe partire una correzione per un'eventuale operazione bearish domani bene questa è la situazione per quanto riguarda gli indici quindi oggi ottima ottime indicazioni ottimi spunti per quanto riguarda gli indici infatti solo oggi sono stati raggiunti oltre i 400 punti esattamente 196 100 182 quindi stiamo ad 4 quasi 500 punti solo per quanto riguarda gli indici ma invece euro dollaro allora euro dollaro al momento sto valutando una opportunità che cosa vuole fare su questa zona anche perché abbiamo ancora in ottica giornaliera resta ancora valida questa bullish abbat che ha spostato il punto di proprio su questa zona e da questa zona potrebbe partire una possibile movimentazione al rialzo ovviamente dobbiamo aspetto domani alla chiusura di questa candela per poi decidere sul da farsi per quanto riguarda invece dollaro yen il dollaro yen abbiamo una situazione di una movimentazione partenza abbiamo un punto di swing primario su questa zona esattamente un massimo 114 vedete il 114 falso movimento sul 114 114 quindi prima movimentazione bearish ed praticamente in questo da questa zona potrebbe partire una movimentazione al ribasso per quanto riguarda invece il cable il cable come già abbiamo visto prima dalla dei vari e dalle dashboard che abbiamo visto prima il cable potrebbe continuare questa forte movimentazione ribassista ovvero la sterlina potrebbe quindi essere oggetto di vendita per il tutto il mese novembre a causa dei mancati accordi con la brexit e quindi questa situazione potrebbe spingere ulteriormente la sterlina verso il basso infatti qua abbiamo una 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 pin ribassista che già ho indicato durante la via analisi fine settimana alla rottura di 1 28 214 potrebbero potrebbe aumentare la pressione ribassista quindi aspettiamo domani oppure nei prossimi giorni che cosa succede per quanto riguarda appunto la situazione legata al cable per quanto riguarda invece il la nostra il crude oil c'è stata una piccola correzione però al momento la situazione rimane sempre bearish ed per quanto riguarda invece gold il gold oggi si è mosso al ribasso vedete praticamente si è mosso sotto 1207 872 sospettando una piccola correzione in ottica h4 oppure anche una candelina rialzista per poter entrare al mercato per poter appunto puntare verso una movimentazione al ribasso bene per stasera è tutto grazie mille per l'attenzione ci aggiorniamo quindi di romani mattina con la seconda diretta live delle ore 8 e 30 seconda diretta live della settimana diretta live mattutina buonasera da tutti grazie mille per l'attenzione ci aggiorniamo